Dolce è sentire come nel mio cuore, ora umilmente sta nascendo amore. Dolce è capire che non son più solo, ma che son parte di una immensa vita. Che generosa risplende intorno a me, dono di lui, del suo immenso amore. Ci ha dato il cielo e le chiare stelle, fratello sole e sorella luna. La madre terra con frutti, prati e fiori. Il fuoco, il vento, l'aria e l'acqua pura, fonte di vita per le sue creature. Dal Vangelo secondo Giovanni La sera di quello stesso giorno, il primo dopo il sabato, mentre erano chiuse le porte del luogo dove si trovavano i discepoli per timore dei giudei, venne Gesù, si fermò in mezzo a loro e disse, pace a voi. Detto questo, mostrò loro le mani e il costato, e i discepoli gioirono al vedere il Signora. Gesù disse loro di nuovo, pace a voi. Come il Padre ha mandato me, anch'io mando voi. Dopo aver detto questo, alitò su di loro e disse, ricevete lo Spirito Santo. A chi rimetterete peccati saranno rimessi, e a chi non li rimetterete resteranno non rimessi. Tommaso, uno dei dodici, chiamato Didimo, non era con loro quando venne Gesù. Gli dissero allora gli altri discepoli, abbiamo visto il Signore. Ma egli disse loro, se non vedo nelle sue mani il segno dei chiodi, e non metto il dito nel posto dei chiodi, e non metto la mia mano nel suo costato, non crederò. Otto giorni dopo, i discepoli erano di nuovo in casa, e c'era con loro anche Tommaso. Venne Gesù a porte chiuse, si fermò in mezzo a loro e disse, pace a voi. Poi disse a Tommaso, metti qua il tuo dito e guarda le mie mani, stendi la tua mano e mettila nel mio costato, e non essere più incredulo, ma credenta. Rispose Tommaso, mio Signore e mio Dio. Gesù gli disse, perché mi hai veduto, hai creduto. Beati quelli che pur non avendo visto crederanno. Molti altri segni fece Gesù in presenza dei suoi discepoli, ma non sono stati scritti in questo libro. Questi sono stati scritti, perché crediate che Gesù è il Cristo, il figlio di Dio, e perché credendo, abbiate la vita nel suo nome. Maranatà, vieni Signore Gesù, vieni Spirito Santo, vieni per mezzo della potente intercessione del cuore immacolato, addolorato e trionfante di Maria, tua sposa amatissima e nostra dolcissima mamma. Carissimi, celebriamo la seconda domenica di Pasqua per un desiderio del cielo manifestato direttamente da Gesù nel 1931 in Polonia alla sua serva fedele, Suor Faustina Kowalska, è diventata questa domenica dopo Pasqua per l'impegno dell'ambasciatore della Divina Misericordia, anche lui polacco, per le vie di tutto il mondo, San Giovanni Paolo II, secondo il sospirato desiderio di Gesù è divenuta questa domenica dopo Pasqua la domenica della Divina Misericordia, una domenica importantissima, perché non solo risponde nella volontà del Santo Pontefice al desiderio di Gesù, ma questa festa è anche ampiamente indulgenziata. Infatti Giovanni Paolo II non solo ha proclamato santa, Santa Faustina Kowalska, la Suora Veggente di Gesù Misericordioso, la Confidente di Gesù Misericordioso, ma ha anche voluto che in questo giorno fosse applicata ai fedeli la indulgenza più grande e più importante, la indulgenza plenaria, la stessa che sperimentiamo durante gli anni santi, quella che celebramo nel grande giubileo del 2000 e quella che celebreremo a Dio piacendo fra quattro anni nel 2025 in occasione del giubileo, quando cioè confessandoci, partecipando alla messa, comunicandoci e pregando secondo le intenzioni del Sommo Pontefice possiamo lucrare l'indulgenza plenaria con la remissione di tutte le pene dovute ai nostri peccati già assolti nel sacramento della confessione. Mi piace leggere cinque righe dal diario di Santa Faustina dove tutto questo è mirabilmente spiegato. Dice Gesù Desidero che la festa della misericordia sia il riparo e il rifugio per tutte le anime e specialmente per i poveri peccatori. In quei giorni sono aperte le viscere della mia misericordia. Riverserò tutto un mare di grazie sulle anime che si avvicinano alla sorgente della mia misericordia. L'anima che si accosta alla confessione e alla santa comunione riceve il perdono totale delle colpe e delle pene. In quel giorno sono aperti tutti i canali attraverso i quali scorrono le grazie divine. Nessun'anima abbia paura di accostarsi a me anche se i suoi peccati fossero come lo scarlatto. La mia misericordia è talmente grande che nessuna mente né umana né angelica riuscirà a sviscerarla pur impegnandovi sì per tutta l'eternità. la sconfinata, incandescente, meravigliosa potenza e bellezza della misericordia infinita del cuore di Cristo aperto sulla croce dal soldato longino perché l'acqua del battesimo ci lavasse grazie al sacrificio di Gesù morto e risorto perché il sangue di Gesù ci purificasse disintegrando tutti i macigni grandi dei peccati gravi mortali o i piccoli sassolini dei peccati veniali perché il sangue prezioso di Gesù prezzo pagato al Padre per il riscatto e la liberazione di noi schiavi e prigionieri di Satana e del peccato potesse diventare grazie alla Messa che ripete, ripresenta e riattualizza il sacrificio di dolore e di amore di morte e di risurrezione di Gesù bevanda calice di salvezza e di redenzione per tutti quelli che con il cuore pentito con il cuore contrito dell'umiltà del cuore chiedendo il perdono di Gesù ottengono grazia su grazia misericordia senza fine certo, l'abisso sconfinato della misericordia di Cristo mette nel nostro cuore un bisogno struggente di lode, di celebrazione di benedizione, di gratitudine di riconoscenza mi hai amato Gesù mio hai dato te stesso per me mi hai amato perché mi vuoi libero perché mi vuoi salvo perché mi vuoi felice camminiamo in questo tempo pasquale illuminato dalla luce del risorto dentro questo orizzonte di nuvole d'oro in questo orizzonte sconfinato di bellezza di misericordia di vittoria di trionfo di luce di luce di luce perché Gesù è venuto a rischiarare le nostre tenebre Gesù è la luce che illumina il mondo e illumina ogni uomo che accoglie il dono della Pasqua il dono del passaggio liberatore di Gesù in mezzo a noi il dono del nostro passaggio dalla morte alla vita dal peccato alla grazia perché possiamo vivere quella esperienza auspicata dai padri dei primi secoli della Chiesa di Pasqua in Pasqua fino alla Pasqua eterna celebrando la Pasqua del Signore nella Messa quotidiana nella piccola Pasqua settimanale che è la Messa del giorno di precetto dies domini giorno del Signore quello che per i pagani era il giorno del sole è diventato dopo la risurrezione di Gesù domenica dies dominica dies domini giorno del Signore il giorno della lode del ringraziamento del dialogo dell'ascolto dell'incontro con Dio il giorno della riconciliazione con noi stessi e i nostri bisogni anche di ristoro spirituale oltre che fisico dopo una settimana intensa di impegno di responsabilità e di lavoro il giorno dell'amore fraterno perché la domenica la voluta Dio che nel settimo giorno della creazione si riposò come dono offerto a noi perché possiamo riconciliarci nel segno della fede e dell'amore con Dio e con i fratelli e con noi stessi ma questa domenica festa della divina misericordia carissimi ci regala un Vangelo stupendo dal capitolo ventesimo del Vangelo del teologo e mistico Giovanni dove abbiamo il racconto preciso straordinario intenso profondo della prima apparizione del risorto agli apostoli radunati nel cenacolo di Gerusalemme e rinchiusi rintanati in quel tempio in quel santuario del cristianesimo dove sono avvenuti i più grandi eventi della salvezza non solo l'istituzione dell'Eucaristia e del sacramento gemello dell'Eucaristia il sacerdozio la sera del giovedì santo ma dove anche Gesù ha dato la grande lezione dell'amore lavando lui maestro e signore i piedi ai suoi discepoli ma anche dove 50 giorni dopo Pasqua mantenendo la promessa già fatta Gesù invia il consolatore lo spirito santo ma anche dove la chiesa è radunata come chiesa orientata totalmente su Cristo ma guidata dalla più grande meravigliosa straordinaria maestra e guida spirituale la madre del signore erano in preghiera con Maria la madre di Gesù quando scese su di loro sottoforme di dispertite lingue lo spirito santo fuoco di vita fuoco d'amore fuoco purificatore il consolatore il paraclito Dio accanto a noi l'avvocato difensore che ci dà la parola giusta in tutte le situazioni perché possiamo anche noi parlare la lingua di Dio la lingua dell'amore e della fede ma il cenacolo di Gerusalemme è anche il luogo dove Gesù è comparso la prima volta da risorto proprio la sera di Pasqua ed ecco il racconto del Vangelo di questa domenica festa della divina misericordia a porte chiuse Gesù entrò nel cenacolo a porte chiuse perché ormai il suo corpo risorto celeste glorioso trasfigurato trattato dalla potenza di luce dello Spirito Santo non conosce più i limiti spazio-temporali tipici della nostra condizione creaturale di finitudine di fragilità di creature uscite capolavoro dalle mani del creatore a porte chiuse entra nel cenacolo e quale augurio rivolge agli undici perché ormai Giuda lo ha tradito e è andato ad impiccarsi anche se il linguaggio comune anche nelle prime comunità cristiane nei primi secoli recita sempre così erano riuniti dodici era un modo di dire ma questi dodici sono diventati undici bisognerà attendere il momento in cui illuminato dallo Spirito Santo sceglieranno il sostituto di Giuda nell'Apostolo Mattia bene miei cari Gesù augura la pace infatti entra a porte chiuse nel cenacolo e dice pace a voi pace shalom che non è soltanto assenza della guerra ma è l'insieme dei doni promessi da Dio che nel compimento della promessa ora tutti si realizzano e vengono riversati come doni di comunione come doni di pacificazione come doni di liberazione come doni di perdono di misericordia di salvezza di benedizione e di gioia tutti i doni di Dio sono concentrati e sintetizzati in questo augurio di Gesù shalom pace a voi e poi Giovanni ci dice che Gesù fa un altro dono quella sera di Pasqua agli Apostoli lo Spirito Santo infatti i biblisti chiamano la Pentecoste Giovannea questo brano così importante di Giovanni XX ricevete lo Spirito Santo verrà in pienezza lo Spirito Santo nel giorno di Pentecoste ma già la sera di Pasqua Gesù dona lo Spirito Santo in maniera peculiare a questa categoria di Suoi discepoli che sono gli Apostoli e i successori degli Apostoli i Vescovi e i Sacerdoti e a questi in maniera specifica dice pace a voi ricevete lo Spirito Santo a chi voi rimetterete i peccati saranno rimessi a chi voi non li rimetterete resteranno non rimessi e nel Cenacolo di Gerusalemme dove Gesù ha istituito l'Eucaristia e il Sacerdoti istituisce anche il Sacramento della Confessione che storicamente acquisterà diversi nomi Sacramento della Confessione o del Perdono o della Riconciliazione o della Misericordia il Sacramento dove il sacrificio e il mistero pasquale di morte e di resurrezione di Gesù viene applicato ad ogni anima pentita dalle sue colpe e dei suoi peccati con la soluzione del Sacramentale del Sacerdote perché dietro la mano del Sacerdote che assolve è Gesù che disintegra cancella elimina tutti i peccati dalla vita del penitente del peccatore ricevete lo Spirito Santo a chi voi perdonerete i peccati saranno perdonati a chi voi non li perdonerete resteranno non perdonati leggiamo il Vangelo così come suona San Francesco da Sisi direbbe sine glossa prendiamo alla lettera il Vangelo a chi voi sacerdoti assicurerete il perdono dei peccati questo perdono avviene si realizza concretamente oggettivamente e allora tutte quelle stravaganti fantasie io mi confesso direttamente con Dio io racconto a Dio tanto Dio ascolta tutti io mi sento perdonato lo stesso da Dio quasi che la confessione diventi con l'effetto placebo una sorta di dialogo col psicologo una specie di seduta psicoterapeuta dove si si diventa più tranquilli più sereni mi autoconvinco che in fondo Dio è buono Dio mi perdona sta sempre con me non può non perdonare mi ha mandato il suo figlio a morire per me non vuole che la mia gioia è la mia pace ma nel profondo della mia anima nel profondo della mia coscienza c'è il marcio c'è il male ci sono i peccati che non mi danno una pace vera forte intensa totale completa ecco perché Gesù nell'orizzonte del mistero dell'incarnazione ha voluto che questo incontro con la salvezza che è lui Yeshua Dio è la mia salvezza Gesù è la mia salvezza venga attraverso la mediazione della sua santa umanità e dopo la sua ascensione al cielo attraverso la mediazione del corpo mistico di Cristo che è la Chiesa Gesù affida la sera di Pasqua alla Chiesa e nella Chiesa in particolare ai sacerdoti ordinati col sacramento dell'ordine sacro il compito di assicurare il perdono e di offrire il perdono in nome di Gesù a tutti i peccatori pentiti quanti doni questo è il dono della pace e scialomma di Gesù che contempla anche il perdono dei nostri peccati ma quella sera di Pasqua tra gli undici manca Tommaso detto Didimo che significa gemello perché Tommaso è gemello della mia incredulità della tua incredulità della nostra incredulità noi siamo gemelli di Tommaso nella incredulità che caratterizza il nostro cammino dietro ai passi di Gesù morto e risorto per noi allora gli amici hanno raccontato a Tommaso sai abbiamo visto il Signore abbiamo visto il Signore lo abbiamo visto realmente è risorto e Tommaso l'incredulo ha reagito dicendo se non vedo le ferite delle sue mani dei suoi piedi dei suoi piedi e del suo costato io non credo se non metto il dito nelle ferite se non infilo la mia mano nella ferita più profonda ed ampia del suo costato io non crederò otto giorni dopo Pasqua in questa domenica la domenica dopo Pasqua la domenica della divina misericordia ritorna Gesù entra nel cenacolo ancora una volta a porte chiuse e mostra agli apostoli le sue piaghe fa la ostensione delle sue ferite alle mani ai piedi al costato e poi si rivolge a Tommaso e dice Tommaso vieni osserva constata verifica la tua razionalità è preziosa io la premio ma non basta la ragione per incontrare Dio per conoscere Dio occorre l'abbandono della fede per amare Dio però vieni voglio premiarti metti il tuo dito nelle mie piaghe infila la tua mano nel mio costato e non essere più incredulo ma credente dinnanzi a questa parola forte formidabile del maestro crocifisso risorto Tommaso cade in ginocchio fa la sua prosciunesis in un gesto di profonda adorazione davanti a Gesù e manifesta pubblicamente anche davanti agli amici la sua professione di fede mio signore e mio Dio signore mio e Dio mio riconosce in Gesù di Nazareth morto e risorto il suo signore il suo Dio quest'uomo Gesù di Nazareth era ed è veramente Dio ed ha veramente mantenuto la promessa il terzo giorno risorgerò e Gesù aggiunge e qui offre una consolazione per il nostro cuore di noi non contemporanei di Gesù cronologicamente parlando perché hai veduto hai costatato hai verificato tu hai creduto Tommaso beati quelli e questi siamo noi che pur non avendo visto storicamente Gesù di Nazareth crederanno in me noi siamo coloro che crediamo alla parola di Gesù e alla testimonianza degli apostoli e agli scritti biblici nelle profezie antiche realizzate nel tempo nuovo con la venuta di Gesù morto e risorto e registrate queste testimonianze del Cristo risorto nei Vangeli e degli atti degli apostoli ecco beati quelli che pur non avendo visto il Cristo storico crederanno in me noi siamo questo esercito di credenti in Cristo morto e risorto che pur non avendo visto Gesù nelle strade sulle strade di Palestina noi crediamo in Lui una fede che è ampiamente sostenuta anche dalla ragione dal sepolcro vuoto dalle diverse apparizioni di Gesù dalle testimonianze autentiche e credibili di quanti hanno vissuto in maniera diretta e personale la vicenda storica della passione della morte e poi anche la risurrezione di Gesù che è apparso diverse volte anche agli apostoli fino al giorno in cui fu rapito sotto il loro sguardo in cielo per andare a sedere alla destra della potenza del Padre nel giorno dell'ascensione è una pagina straordinaria questa di San Giovanni nel capitolo ventesimo qui scopriamo fratelli carissimi e concludo due stelle luminosissime capaci di abitare con una carica di speranza esplosiva le tenebre e il buio che attraversiamo ordinariamente in tutti i giorni della nostra vita la prima si chiama la stella dell'amore la seconda si chiama la stella della fede la fede e l'amore diceva un padre dei primi secoli della chiesa San Massimo il confessore l'amore e la fede sono in fondo tutto il Vangelo il Vangelo è il racconto della fede e dell'amore dei discepoli nei riguardi del loro maestro nato morto risorto e asceso al cielo che invia il dono dell'amore lo Spirito Santo il Paraclito il Consolatore certo l'amore è una regola che impariamo nella prima lettura soprattutto nella prima lettura della Messa della Festa della Divina Misericordia il capitolo quarto degli Atte e degli Apostoli dove è detto che i discepoli del Signore della prima ora mettevano tutto in comune chi non aveva prendeva chi aveva dava nessuno mancava del necessario questa condivisione del bene realizza la novella Pentecoste cioè la esperienza della comunità illuminata dall'amore dello Spirito Santo ma sono esperienze di fraternità di condivisione già note anche nel mondo pre-cristiano nel mondo greco vi dico soltanto qualche nota per esempio i primi cristiani si riferivano ad esempi già sperimentati nel passato di Israele e dell'umanità certamente essi pensavano ad un famoso monito del libro biblico del Deuteronomio non Deuteronomio 15 non ci deve essere in mezzo a voi alcun bisogno e solo così il Signore vi benedirà forse alcuni dei primi cristiani i più colti sapevano che anche il filosofo greco Aristotele aveva scritto nella sua opera Etica Nicomachea che le cose degli amici sono comuni infatti l'amicizia si manifesta nella comunione anche Platone aveva detto che ad Atene i membri della classe dei guerrieri nulla possedevano in proprio ma consideravano tutto di proprietà comune ma proprio durante gli anni di Gesù e in quelli successivi un monastero giudaico quello di Qumran sulle sponde del Mar Morto monastero che sarebbe divenuto celebre nel 1947 in avanti per i suoi manoscritti ritrovati aveva adottato lo stesso tipo di comunione dei beni forse da questa comunità è uscito anche il precursore di Cristo Giovanni Battista i membri della comunità non consideravano nulla come proprio ma ogni cosa era di tutti e quello che si ricavava dal lavoro dei singoli veniva affidato ad un fondo comune i cristiani non vivono perciò un'esperienza sociale unica anche perché nella storia successiva sarà riproposta ad altre ideologie penso alla ideologia del socialismo o del comunismo nella parte migliore che pensa alla condivisione comunitaria dei beni tuttavia profondamente diversa e originale è la ragione la motivazione ultima e lo spirito che anima questo progetto di condivisione comunitaria esso infatti affonda le sue radici spirituali nell'esperienza pasquale la vittoria di Gesù sulla morte ci deve rendere liberi dalla ossessione possessiva e accumulatrice che si sviluppa a motivo della paura della morte la vittoria di Gesù sul peccato ci deve liberare dall'adorazione dell'idolo mammona di iniquità che è il denaro la vittoria di Gesù sull'egoismo che è in noi ci deve aprire totalmente al prossimo affamato e assetato sofferente solo d'altronde tutto il cuore della morale pasquale e in quelle parole che nel testamento di Gesù possiamo leggere ce lo ha lasciato nell'ultima sera della sua vita terrena questo disse Gesù nell'ultima sera della sua vita con gli apostoli questo è il mio comandamento che vi amiate gli uni gli altri come io vi ho amati nessuno ha un amore più grande di questo dare la vita per i propri amici Vangelo di San Giovanni capitolo quindicesimo ecco la grande stella che illumina le tenebre del nostro cammino esistenziale la stella dell'amore ampiamente sottolineata dal libro degli atti degli apostoli e poi la stella della fede quella fede che vuole toccare quella fede che vuole verificare quella fede che vuole constatare sperimentare che è nell'incredulo Tommaso detto Didimo in ognuno di noi gemello di incredulità di Tommaso e che abbiamo potuto risolvere quando Gesù ci ha offerto le prove che egli è veramente vivo che egli è veramente presente che egli è veramente l'amore perché il risorto è vivo è presente è il Signore la fede quella fede che illumina i nostri passi quella fede che illumina il sentiero del nostro cammino di ogni giorno quella fede che è necessaria per chi non crede tutto è più complicato più difficile più oscuro inesplicabile indistricabile per chi crede tutto cambia per chi crede tutto si carica di attesa di speranza di desiderio chi crede sa che non c'è disastro storico umano cosmico che non possa essere risolto dall'intervento di Gesù risorto il misericordioso ce ne ha dato le prove quante volte sento nel linguaggio popolare questa espressione che una volta condividevo e oggi invece la illumino alla luce del mistero pasquale padre mi dicono molti a tutto c'è il rimedio forché alla morte davanti alla morte tutti dobbiamo alzare le mani e arrenderci no rispondo oggi non sapevo farlo ieri anche alla morte c'è il rimedio la risurrezione di Cristo con la sua gloriosa risurrezione Cristo ha vinto anche l'ultimo nemico la morte e al covid c'è la risoluzione sì la risoluzione non è unicamente nell'aiuto peraltro un po' inconsistente fragile e insicuro del vaccino ma nell'intervento di Gesù che in un battibaleno può cambiare questa situazione opprimente che ci sta lacerando nelle relazioni familiari sociali comunitari ecclesiali parrocchiali e ci sta togliendo la gioia ci sta togliendo la serenità dal volto la luce che brilla negli occhi e la fiamma di fuoco d'amore nel cuore quanta depressione quanta tristezza quanta stanchezza quanta paura quanta angoscia si moltiplica quanti danni non solo economici per la chiusura di tanti locali commerciali per il disagio lavorativo che ha impoverito ulteriormente l'Italia e soprattutto il meridione d'Italia non solo il disastro dal punto di vista economico-lavorativo ma il disastro dal punto di vista psicologico psichico quanti guai questo lockdown che dura da più di un anno ci sta procurando dobbiamo riemergere da questa situazione ormai la stanchezza vedete diffusa e cominciano al nord come a Roma come al sud le proteste perché se non moriamo di covid moriamo di fame ed ecco allora dinanzi anche alle situazioni le più terribili le più pesanti le più drammatiche della storia noi cristiani possiamo raccontare al mondo la speranza e la speranza è tutta in una persona Cristo Gesù ha vinto la morte egli è risorto la risurrezione di Cristo è la risoluzione di tutti i nostri problemi ricordate Archimede datemi un punto di appoggio vi solleverò il mondo carissimi per noi cristiani è vera la stessa cosa abbiamo un punto di appoggio la risurrezione di Cristo nella risurrezione di Cristo e con la potenza di Cristo morto risorto il misericordioso possiamo risollevare il mondo da ogni dubbio da ogni paura da ogni incredulità da ogni tristezza da ogni disperazione da ogni pianto auguri a tutti fratelli e sorelle auguri a tutti festa della divina misericordia non facciamoci scappare di mano questa grande opportunità vado a messa mi confesso faccio la comunione prego per il Santo Padre e acquisto anche l'indulgenza plenaria che cancella che cancella e disintegra totalmente anche le pene che dovrei scontare in terra col sacrificio la preghiera l'elebosina o in cielo nel purgatorio della purificazione a motivo dei miei peccati viene azzerato il conto viene stracciato il conto il debito che abbiamo al cospetto di Dio il Trevolte Santo e rifiorisce la gioia il sorriso la grazia la speranza nel nostro cuore quanto sei buono Gesù morto risorto quanto sei buono Gesù misericordioso dal tuo costato squarciato è sgurgata l'acqua il raggio pallido che vedo nella ferita del tuo cuore in questa splendida immagine di Gesù misericordioso è sgurgata l'acqua che mi ha lavato agli albori della mia vita e nel battesimo mi ha fatto Tempio dello Spirito Santo di Mora della Santissima Trinità figlio di Dio e figlio della Chiesa e il raggio rosso che rappresenta il sangue sgorgato dal tuo costato squarciato sulla croce quel sangue che disintegra i miei peccati e diventa bevanda di salvezza calice di benedizione in ogni messa dove il prezzo del riscatto della mia condizione di prigioniero del male di schiavo del peccato e di Satana è eliminata questa condizione dalla potenza del sangue prezioso tuo Gesù mio perciò ti dico a nome di tutti i miei fratelli e delle mie sorelle sparsi per le vie del mondo a nome di tutti quelli che stanno ascoltando questa mia catechesi pasquale nella festa della divina misericordia le parole che tu suggeristi alla mistica Santa Faustina Kowalska e nelle quali ha creduto fermamente l'ambasciatore per le vie del mondo della divina misericordia San Giovanni Paolo II Gesù io confido in te auguro a tutti una felice e santa domenica e arrivederci a tutti Grazie a tutti.